Maltrattano il lavoro, piegano i diritti, ignorano le esigenze di lavoratori, giovani e pensionati. Jobs Act, politiche economiche e leggi di stabilità sono sbagliati. Così non va. Venerdì 12 dicembre, CGL e Will organizzano uno sciopero generale nazionale in difesa del lavoro. Aderisci anche tu e partecipa alle iniziative nella tua città. Abbiamo proposte concrete per cambiare l'Italia. Il 12 dicembre sciopera per il bene dell'Italia, del lavoro e per il futuro.